Ciao bambini! Ciao! Cosa fate per la Befana? Scartiamo i regali e mangiamo le caramelle! Scartiamo le caramelle! Trovo i miei regali nuovi che ho ricevuto! I regali nuovi? Ma questo non ci vuole tutta la giornata! Rompiamo fino a una notte! Ma per esempio, alle 5 cosa fate? Io! Rompiamo! Ho un'idea! Ce l'ho io un'idea! Andiamo al parco! Al parco, giusto vicino al parco nel centro polivalente di via Luni ci sarà lo spettacolo del mago dei fiori! Che cos'è? E' uno spettacolo di danza e di teatro dove qualche magico personaggio incontrerà altri magici personaggi Pinocchio! Pinocchio potrebbe esserci! Si si potrebbe esserci! Non lo so! Perché non venite a scoprirlo? La patina? Si quella si! C'è una rensola! No, c'è una rensola no! Viene lo stesso? Si! E voi? La pizza c'è? Si! Vediamo! C'è la merenda per tutti! E voi? E allora venite? Siiii! Ciao! Ciao! Oh! Grazie! Ciao! Ciao a tutti! Ciao! E vinciamo! E vinciamo! E vinciamo!